la successiva voce è pacchetto immobili holding in cui sono visualizzati i cantieri e in genere gli immobili gestiti direttamente dalla free molding sezione cantieri e frazionamenti nella lista degli immobili il dato più interessante è la voce per questo immobile free offre questa dicitura sta a significare che la holding nel caso di vendita dell'immobile offre all'operatore che ha collaborato per il perfezionamento dell'affare con una proposta d'acquisto una percentuale sul prezzo per ulteriori chiarimenti su chiedo e offro si invita a visionare il video numero 5 tornando agli immobili pubblicizzati in pacchetto immobili holding la percentuale offerta agli operatori varia a seconda che questi siano advanced o professional un operatore è definito advanced se utilizza solo la piattaforma mls mantenendo inalterata la sua identità e la sua immagine di professionista del settore un operatore è invece definito professional se oltre all mls si avvale anche del marchio frame anche nella sezione pacchetto immobili holding è possibile selezionare la tipologia è inoltre interessante notare che gli immobili essendo gestiti direttamente da un costruttore presentano una particolare informativa in alto con carattere bianco su sfondo blu in generale gli immobili pubblicati dai costruttori sono gli unici presenti nell'mls a non essere caricati da agenti immobiliari segue poi nel menu immobili export magazine e anteprima magazine che permettono rispettivamente di selezionare gli immobili da pubblicare nel magazine e di scegliere la relativa copertina anteriore e 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